Il governatore d'Abruzzo ufficializza i lavori per l'abbattimento della famigerata di Gafforania del porto di Pescara. Siamo partiti nel 2007 recependo le risorse, recuperando le risorse per dotarci di un nuovo piano regolatore portuale. Nessuno ci credeva, c'è stata anche un'indagine diciamo così all'acqua di rose. L'indagine non ha potuto che mettere in evidenza la correttezza delle condotte. Siamo arrivati adesso al passaggio conclusivo per dotarci del piano regolatore portuale di Pescara che ci consente di pensare grande il porto di Pescara, combinatamente al porto di Ortona, di Vasto e anche a quello di Giulianova con puntuali specializzazioni. Ma soprattutto l'adempimento che si è definito ieri da parte di sindaco e vice sindaco concerne un ulteriore, definitivo, conclusivo studio sulla crescita di potenza idraulica una volta tagliata la diga foranea. Una notizia tanto attesa è che sia auspica possa finalmente risolvere, è il caso di dirlo, un mare di problemi. Noi siamo fiduciosi che a ottobre finalmente il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici possa approvare il piano regolatore portuale. Una volta approvati i lavori potranno essere conseguenziali e quindi diciamo che nell'autunno di quest'anno siamo fiduciosi che vi possa essere il tanto agognato avvio dei lavori.